Da 50 anni di esperienza a stil bagno nasce Kamer. Vorrei dimettermi da statua per trasformarmi in qualcosa di vivo e tornare a decantare la meraviglia del territorio. Questo è l'ideale messaggio rivolto ai giovani, da Giovanni Bertacchi, il poeta chiave nasco di scuola carducciana e pascoliana, nel documentario presentato questa mattina nella sala riunioni dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio. E se l'illustre autore è nato nel 1869, apprezzato cantore delle Alpi, non può però avere ragioni, sensibilizzare alla bellezza del comporre l'ireche e stimolare gli studenti di oggi a farsi ambasciatori della propria terra. Ci ha pensato, a 150 anni dalla sua nascita, l'associazione culturale Progetto Alfa, grazie al bando del sesto concorso internazionale di poesia Giovanni Bertacchi, presentato questa mattina alle scuole. Un'iniziativa di ampio respiro, anche dedicata ai giovani, Andra 18, per i quali è previsto un premio di categoria. Quest'anno apriamo appunto il concorso internazionale di poesia Giovanni Bertacchi anche alle scuole, con la collaborazione appunto dell'Ufficio Scolastico del Territorio, cercando appunto di coinvolgere i ragazzi alla, prima di tutto, scoperta e riscoperta di un nostro letterato, Giovanni Bertacchi. E secondo, stimolare alla creazione e produzione artistica da parte dei giovani di ogni età. I giovani non devono dimenticare né la poesia, che è il sapore della vita, né l'unico poeta grande che è sopravvissuto alla memoria se dopo 150 anni ne ricordiamo ancora la sua nascita e il suo operato come uomo e come poeta. Un progetto il cui bando è tradotto in ben dieci lingue, che vede in campo come giurati autorevoli studiosi universitari e dalla indiscutibile professionalità e che trova pieno supporto anche dall'amministrazione di Chiavenna, guidata dal sindaco Luca Della Bitta. Le finali del concorso internazionale di poesia Giovanni Bertacchi sono state organizzate in maniera tale da mettere al centro proprio la provincia di Sondrio e valorizzare il nostro territorio. Soprattutto per quanto riguarda la categoria degli anni al 18 abbiamo deciso di fare la finale nazionale a Sondrio e la finale internazionale a Chiavenna. Sono molto soddisfatto dopo sei anni di allargare ancora più l'adesione di questo concorso che ci dà ogni anno tante soddisfazioni. L'anno scorso abbiamo avuto più di 1400 adesioni da tutto il mondo, dal 75% del territorio nazionale, che è una soddisfazione che parte soprattutto dalla provincia di Sondrio. La proposta culturale di Progetto Alfa, che mira a favorire percorsi di interscambio culturale in ambito macro-regionale, europeo e internazionale, ha incuriosito il giovane pubblico. È una bellissima occasione per metterci in gioco in un'esperienza nuova e differente da quelle usuali, come ad esempio i temi a scuola, quindi può essere un'ottima opportunità per noi studenti. Per partecipare al concorso basta compilare il modulo di adesione sul sito di Progetto Alfa. La partecipazione è gratuita per la consegna degli elaborati da parte delle scuole. È prevista una proroga fino a metà ottobre.